La gestione e la funzionalità dei consorsi di bonifica è una delle battaglie che la Col Diretti porta avanti da anni. Crescita, sicurezza ambientale, territorialità ma soprattutto disponibilità delle acque sono tra gli obiettivi che il presidente Franco Aceto ha messo in evidenza durante la proclamazione del nuovo direttivo del consorzio di bonifica del Tirreno Cosentino. Noi riteniamo e ne siamo sempre di più convinti che la risorsa idrica per un'azienda agricola è fondamentale. Un'impresa agricola è tanto più ricca quanto più risorsa idrica ha e per poterla dare è necessario che ci siano le giuste infrastrutture e che ci sia una corta e attenda gestione anche di queste infrastrutture. Per cui il mezzo attraverso i quali garantire questo processo di disponibilità idrica per le aziende è dato proprio in mano ai consorzi di bonifica. Dopo anni di commissariamento la direzione torna ai neo eletti e ai consorziati e su questo il presidente è in calza. Come col diretti non ci siamo mai sottratti nel metterci la faccia e il nostro impegno per la gestione diretta. Noi abbiamo avuto decenni di gestione commissariale nei diversi consorzi di bonifica in mano alla regione Calabria con la nomina di commissari e purtroppo i risultati hanno esortito a quello che oggi quotidianamente si fanno i conti. Da quando invece le imprese agricole attraverso in questo caso col diretti a fianco dei nostri associati ci hanno messo la faccia per gestire in prima persona le problematiche del territorio, in questo caso della risorsa idrica e anche della salvaguardia del territorio, i risultati incominciano a vedersi. Alla nomina ha fatto seguito la consegna del programma di gestione dei prossimi 5 anni che l'Assemblea ha consegnato firmato allo stesso CETO per suggellare simbolicamente l'impegno assunto. Vogliamo rilanciare la posta con un programma ben chiaro, ben preciso che è la brochure alla quale tutti i neo eletti hanno sottoscritto l'impegno di attenersi e insieme di portarla avanti affinché poi fra i 5 anni di tirare fuori un resoconto.